Attori marchigiani, ancora protagonisti a Torino, per l'ennesima volta presentiamo una miriade di pubblicazioni che fanno parte della storia, della cultura e comunque della letteratura marchigiana. Sì, in effetti le Marche sono diventate un paese, stanno crescendo da questo punto di vista, le casirici stanno crescendo e gli autori da un punto di vista culturale, da un punto di vista della scrittura hanno sicuramente un loro peso nell'economia della letteraria che è in crisi, si legge poco ma il nostro territorio sta portando avanti autori nel tempo affermati ma tanti giovani che stanno curando moltissimo il nostro territorio.